Cari pellegrini, voglio offrirvi qualche riflessione come editoriale di quest'oggi in merito alla notizia dell'abbattimento dell'orsa in Trentino, orsa che è stata denominata KJ1 da parte di una decisione del presidente della regione del Trentino, Fugatti. Ora, la mia riflessione verte su tre punti. Primo punto di carattere teologico, secondo punto, possiamo dire, di carattere storico, terzo punto di carattere filosofico. Allora, per quanto riguarda il discorso di carattere teologico, che cosa dice il cristianesimo in merito all'amore e alla cura nei confronti degli animali? Certamente il cristianesimo afferma che bisogna amare gli animali in quanto creature di Dio, ma non si può dare un amore, cosiddetto di amicizia, come dice la teologia spirituale, perché gli animali ovviamente non sono comparabili all'essere umano. Cioè, teniamo presente che l'antropologia biblica è un'antropologia antropocentrica. Attenzione, qui l'antropocentrismo non lo dobbiamo intendere così come lo intende la categoria un po' della modernità, cioè l'uomo come fondamento immanente di tutto, come Dio di se stesso, eccetera. No, l'antropocentrismo qui va inteso in senso corretto, cioè l'uomo è la massima creatura esistente sulla faccia della Terra, è l'unica creatura sulla Terra ad essere stata creata ad immagine e somiglianza di Dio. Gli animali non sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Da qui la legittimità da parte dell'uomo di usare gli animali, cioè gli animali possono essere strumento dell'uomo e sono di fatto strumento dell'uomo, che l'uomo domini sui pesci del mare, chiedo scusa, sugli uccelli del cielo e via discorrendo. Ovviamente questo non significa che bisogna, per puro, diciamo così, gusto sadico, maltrattare gli animali nella maniera più assoluta, perché anche gli animali sono creature di Dio e vanno curati e vanno amati, ma sono sempre a servizio dell'uomo, per cui quando gli animali dovesero pregiudicare l'incolumità degli esseri umani, eccetera, possono essere ovviamente abbattuti. Teniamo presente che il cristianismo stesso è sempre invitato a leggere la natura come se fosse un grande libro, un grande libro pieno di elementi simbolici, di significati simbolici. Infatti non a caso nel Medioevo erano molto diffusi dei generi letterari tipo gli erbari, i floriari e gli stessi bestiari, cioè vedere nelle bestie e negli animali dei significati simbolici, perché se Dio ha creato gli animali, ha creato tutte le specie animali, significa che ci sono dei significati simbolici nelle specie animali. D'altronde, vedete, questo è facilmente ravvisabile da una cosa, ci sono delle specie animali che procurano istintivamente tenerezza, ci sono invece altre specie animali che ci procurano istintivamente un po' di ribrezzo. Ora, questo chiaramente non è ascrivibile al merito, ai demeriti delle varie specie animali, sono degli elementi simbolici che proprio sono iscritti nella loro natura. E attraverso il comportamento degli animali, insegnavano i medievali, insegnavano questi generi letterari, attraverso il comportamento degli animali si possono dedurre delle virtù oppure dei vizi. Infatti, per esempio, il comportamento del cane, il cane che rimane fedele al padrone, anche se eventualmente il padrone lo dovesse ai noi maltrattare, questo sta a significare proprio una fedeltà, una fedeltà intensa, significativa. Oppure pensiamo, non so, al serrente che colpisce srealmente, che costituisce una sorta di insidia pericolosa e che ne approfitta del suo attacco silente, indubbiamente questo, il serpente esprime un significato simbolico negativo. Secondo punto di riflessione. Secondo punto di riflessione riguarda un po' il discorso di carattere storico. Ora, tenete presente che, sempre utilizzando la notizia da cui siamo partiti, ci sono state e ci sono attualmente tutta una serie di associazioni ambientaliste, animaliste, eccetera, che hanno attaccato il presidente della regione del Trentino, affermando che, fondamentalmente, perché loro vengono da una prospettiva ideologica ben precisa, che è la prospettiva appunto animalista, secondo cui la dignità dell'animale e di un animale vale quanto quella dell'uomo, tutto sommato. E vedete, la diffusione di queste associazioni nel nostro mondo sono il chiaro segno del fatto che siamo in una società post-cristiana e, precisamente, in una società in cui ci sono rigurgiti neopagani molto forti. Perché nel Paganissimo Antico, e adesso è chiaro che non possiamo fare tutta una serie di distinguo che ci porterebbero molto fuori, nel Paganissimo Antico vi era una concezione fondamentalmente monistica, panteistica, per cui, alla fine, tutta la natura, ecco, la natura non è un dono di Dio, la natura non è una creatura di Dio, o una realtà creata da Dio, ma la natura è Dio stesso, è Dio stesso che poi si esprime in una pluralità di forme, di specie animali e via discorrendo. E queste associazioni che dominano nel nostro mondo sono sicuramente di carattere neognostico e di carattere neopagano. Arrivando anche, diciamo così, ad affermazioni abbastanza particolari, no? Il fatto stesso che si mette a repentaglio anche l'incolumità fisica degli uomini piuttosto che salvare gli animali è interessante. D'altronde non abbiamo un caso, perciò parlavo di elemento storico, abbiamo un caso che è significativo, la Germania nazionalsocialista. Dovete sapere che lo stato della Germania nazista fu il primo stato a legiferare contro la vivisezione animale. Poi dovettero fare un passo indietro perché si accorsero che era insostituibile la vivisezione animale per quanto riguarda la sperimentazione dei farmaci. Ma fu fatta questa legge. Qualcuno può dire, eh, ma grande contraddizione, ma come la Germania nazista che permetteva addirittura la sperimentazione sulle cavie umane e poi ha legiferato contro la vivisezione animale. No, non c'è contraddizione. Perché non c'è contraddizione? Perché la concezione pagana, e la Germania nazista e il nazionalsocialismo fu un neopaganissimo, la concezione pagana è una concezione che pretende il passaggio dall'antropocentrismo, secondo quella lettura che abbiamo dato precedentemente, al biocentrismo. Per cui un animale sano ha più diritto alla vita di un essere umano disabile, deforme, con degli handicap e via discorrendo. E pensate che uno dei maggiori sostenitori dell'animalismo contemporaneo, che è il famoso filosofo australiano Peter Singer, ebbene, costui ha scritto che uno scimpanse sano ha più diritto alla vita di un bambino ammalato. Terzo punto di carattere filosofico. Qui dobbiamo rilevare tutte le contraddizioni dell'animalismo. Perché l'animalismo, abbiamo detto, dice che l'uomo e l'animale fondamentalmente hanno la stessa dignità. Quindi il discrimine non è la ragione, l'autocoscienza, ma il discrimine sarebbe semplicemente l'elemento della vita, to cure, della vita in quanto tale. Ma per affermare questo bisogna utilizzare la ragione. Cioè, se io voglio negare il valore della ragione come elemento discriminante, devo utilizzare la ragione. E quindi io sto contraddicendo me stesso. Cioè, da una parte dico che la ragione non è importante, dall'altra, per poter dire questo, devo utilizzare la ragione. Tant'è vero che l'uomo può essere animalista, ma l'animale non può essere umanista. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al Passione Editoriale, vi saluto caramente, ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.